Signori, sto imparando il tedesco. Prima ho imparato l'inglese, signori, e adesso anche il tedesco. Devo fare concorrenza alla mia amica Maria Elena Boschi, candidata nel collegio di Bolzano. Avrà di fronte per le prossime elezioni, signori, un avversario temibile. Avrà di fronte il Biancospino, signori. No, il Fiore di Bach. No, la sorella di Spelacchio, signori. No, mi dico no, Bianco Fiore, non mi ricordavo il nome. A questo punto posso dire soltanto una cosa alla mia amica Maria Elena, in bocca al lupo. E per dimostrare che conosco il tedesco, ecco la mia filastrocca. Eins, zwei, drei. Ich bin Peter, du bist Paul. Ich bin Fleissig, du bist Frau. Eins, zwei, drei. Du bist frei, signori. È tutto.